Salve a tutti ragazzi sono Mattex e benvenuti in questo nuovo video qui su E23 con il nostro Pisa quest'oggi torna la carriera proseguiamo con il nostro il nostro Pisa abbiamo fatto un buon inizio di campionato in realtà fin qui quindi vi invito a recuperarvi gli ultimi episodi qualora non aveste ancora fatto questo oggi vedremo molto probabilmente tutto il mese di ottobre andando a credo simulare in maniera lenta la gara contro il Sud Tirol poi giocheremo quella con il Genoa, quella con il Bari, quella con l'Ascoli e quella con il Perugia semplicemente diciamo per provare a velocizzare un attimino i mesi questi di serie B proviamo a simulare in maniera lenta quindi qualora succedessero cose entreremo prontamente in campo se dovesse andare male ci adegueremo nel senso prossima volta magari ne facciamo una in meno però le giochiamo tutte cosa importante da fare quest'oggi è andare nel vivaio perché ho visto che ci sono due cambi ruolo da fare abbiamo quello di Marius che passa da centrocampista centrale ad alla destra e fa un più nove credibile una bestia una bestia una bestia quindi potrebbe rivelarsi interessante proviamo a farlo crescere a vedere se effettivamente può far bene lui invece passa da AT a centrocampista offensivo Medina passa da 54 a 56 in realtà pochino il potenziale non si alza di molto anziché simulare in maniera lenta proviamo i momenti club mi avete consigliato di non fare quelli di solo attacco quindi giochiamo ce li vediamo Tramoni completamente da solo aspetta De Angelis l'ha visto servito De Angelis col destro calcia fuori su tiro in attacco attenzione a carretta per Mazzocchi al volo c'è gemello andare il numero 90 corto Calabresi De Angelis si gira Mancino Sissè per Tramoni 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 il vantaggio del Pisa servito da Sissè subentrato in questo match Tramoni si trova da solo tu per tu col portiere sfrutta l'occasione regala l'1-0 ai suoi finisce qui su tiro Pisa 0-1 passa la squadra ospite vittoria importantissima perché sono tre punti conquistati e soprattutto è la prima vittoria fuori casa senza prendere gol e questo rientra negli obiettivi della società quindi per il Pisa ottima vittoria classifica che ci vede attualmente al secondo posto con 16 punti al pari di Brescia e Benevento Genoa ha perso 15 punti rimangono rimangono lì i rosso-blu c'è solamente più l'Ascoli davanti quest'oggi affrontiamo invece i rosso-blu quindi dobbiamo provare portare a casa una buona apprezzazione perché contro il Parma una delle squadre più alte ovviamente abbiamo affrontato della classifica abbiamo fatto fatica siamo riusciti a strappare un pareggio all'ultimo su un calcio di rigore quindi vorrei provare a tenere di più la partita prepariamo la formazione e poi ci vedremo in campo che sarà fondamentale poter giocare assieme vi faccio intanto vedere le slide che uso me le avete chiesto negli scorsi video intanto io uso durata tempo 5 minuti e difficoltà leggenda non gioco con la modalità competitiva quindi quello no neanche la difficoltà in base al giocatore eccetera per quanto riguarda la personalizzazione utente e queste io uso lo stesso sia per utente che per computer quindi segnatele solamente una volta poi tanto quelli sono i cambi devo ringraziare ovviamente Luca Teot del gruppo di FIVA23 carriera allenatore su facebook le ho prese da lui ho modificato giusto qualcosina giusto in velocità scatto e poi i portieri ho limato alcune cose ma poca roba nel senso le slide comunque sono sue ho fatto tanto grazie tanto grazie a lui uso queste qua quindi 35 di velocità scatto 48 di accelerazione 62 di retiri 58 errore passaggio 47 di velocità tiri 42 di velocità passaggi 60 di frequenza infortuni ma 40 di gravità 65% abilità portiere 72% marcatura 40 per la frequenza inserimenti 45 per altezza difesa lunghezza difesa 35 ampiezza difesa 45 posizione esterni 50 vale di potenza 50 errore tocco di prima 65 questo sia per l'utente che per cpu quindi non cambia assolutamente fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere soprattutto come vi trovate se magari riuscite a fare qualcosa con l'aggiornamento spero di riuscire comunque a giocare anche con queste slide lo vedremo ovviamente in queste partite non so come mai ma non fa più vedere le formazioni quindi le vedremo da qua poi prossimamente le vedremo nelle le fasi iniziali gemello tra i pali Esteves Trippi Barba Beruato in difesa Noji con Boloca a centrocampo Ebo Sele sulla destra Tramoni sulla sinistra Morutan sulla tre quarti e Torregrossa invece unica punta per il Genoa un 4-4-2 con Martínez tra i pali Efti terzino destro Dragos in Ilzanker e Pajaz in difesa Gudmundson e Sibor sugli esterni Aramu a centrocampo Coda e Cesigna davanti Genoa che è un pochino più più offensiva davanti cerca però di contenere gli attacchi con un 4-4-2 il Pisa col suo 4-2-3-1 che fin qui ha fatto bene vedremo se quest'oggi le slide funzioneranno anche dopo l'aggiornamento Esteves Rossi in mezzo per Morutan Calcia una mina Boloca Albert parla in mezzo Coda un missile dell'attaccante rosso-blu Pisa sotto Genoa in avanti Boloca Tramoni Morutan in avanti l'ha visto Tramoni ma serve Torregrossa poi Toccomo vedo sotto per Rebossele stop a calcio a gol destro Martinez un calcio ad angolo FT palla al centro Sesigna poi non arriva Gemello qui errore clamoroso del portiere Ex-Toro 2-0 Genoa De Angelis in avanti per Torregrossa la palla è ottima Torregrossa Torregrossa può andare destro 2-1 Pisa corcia le distanze ottimo il pallone di De Angelis qui per la punta titolare il numero 10 segna l'1-2 Tramoni però aspetta e studia l'azione De Angelis Boloca Tacco Noji destro Martinez c'è Gemello sulla linea stava una punizione pericolosissima finisce qui finisce qui Pisa 1 Genoa 2 vantaggio maturato nel primo tempo con l'unica occasione per la squadra Rosso-Blu poi il Pisa l'ha accorciata con Torregrossa non è bastato buona vittoria della squadra Rosso-Blu che si riprende probabilmente la posizione noi torniamo a casa con 0 punti ma oddio Coda ha visto ha visto qualcosa però però una buona prestazione comunque contro una squadra forte quindi dobbiamo migliorare torniamo un po' con i piedi per terra quinti in classifica 16 punti per noi non capisco perché quando apro la classifica si sballi l'audio vabbè siamo quindi in classifica con 16 punti in questo momento a meno 3 dal Benevento meno 1 dal Brescia meno 2 dal Genoa che ci ha battuto recentemente siamo quest'oggi contro il Bari attualmente 12 punti 10 in classifica quest'oggi sarà importante ripartire provare a ritrovare punti pareggio per proprio non perdere se no vittoria è fondamentale quest'oggi perché la squadra deve reagire la squadra deve rifar bene proviamo tenere sempre la stessa formazione cambierei giusto qualcosina e a sto punto la vedremo assieme perché dall'aggiornamento non riesco più a vederle noi scenderemo in campo con Gemello tra i pali Barba Trippi Calabresi e Beruato in difesa Boloca Tourè e Bosselle Volpato e Sibilli a centrocampo con De Angelis unica punta davanti invece il Bari si era un 4-3-1-2 che tra l'altro uso con il Sarisburgo Salcedo Antenucci davanti un attacco che può fare male un attacco molto interessante con due giocatori che qualora dovessimo andare in Serie A potremmo provare anche a visionare perché potrebbero essere interessanti per il nostro Pisa scendiamo in campo in cerca dei tre punti oggi sarà fondamentale riprendersi dopo la vittoria contro Sutirol ma la sconfitta contro il Genoa poi Boloca visto i Bosselle in profondità ha servito i Bosselle 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 segna la lette dell'1-0 ma in fuorigioco partito tegivo di secondo dopo Aiello Antenucci scarica su Maita col mancino ci prova si allunga vola gemello calcio di rigore fallo di Beruatto anzi fallo di Tripi in area qui non ci voleva Antenucci contro gemello gemello si fa trovare pronto poi Volpato prova a spazzare in avanti Sibilli Antenucci prova col destro traversa e poi Maiello Bari vantaggio sfrutta la ribattuta dalla traversa Tramoni appena entrato e da solo Tramoni deve andare in avanti verso De Angelis il tocco sotto il tocco morbido della numero 99 che pareggia i conti pareggia una parita molto molto difficile oddio chi che si è fatto male Gianni buco al centro Gianni è rotto Schilder Bari in vantaggio oggi si fa fatica in difesa tripi a terra il Bari ne approfitta Tramoni 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 vada solo Tramoni prova col destro palla alta Barba Murutan De Angelis viste Ebosele la palla è per lui è buona Ebosele frattali finisce qui piove sul bagnato per il Pisa dopo la sconfitta contro il Genoa arriva anche la sconfitta contro il Bari fa un po' fatica quest'oggi il Pisa di ingranare oltretutto tripi sia anche infortunato e il 2-1 tra l'altro è arrivato proprio su quell'occasione speriamo che l'infortunio non sia non sia così grave poco spazio per torre grossa tripi infortunato per tre mesi frattura dal dito del piede queste cose stanno molto bene per noi ultimamente che partite parliamo del rinno va bene va bene trattiamo il rinno per per barba va bene cruciale per adesso prolungherei di due anni dai di due anni niente clausa non mi chiedo lui i soldi gli offrirei 6 e 5 magari alziamogli comunque un po' lo stipendio gli diamo tipo 80.000 può star bene mi sembra una fefeu va bene bene salve mister sono davvero felice che mi ritengo un giocatore in grado di dare un contributo a questa squadra grazie per aver trovato l'accordo ogni nome del mio contratto sai quanto ti stimiamo barba non ti preoccupare non ti preoccupare direi conferenza stampa per partita serve motivare un po' i nostri ragazzi non è stata la migliore la pratenza finora anche l'obiettivo promozione diretta rischia di complicarsi ma siamo inizio stagione ma che me rompi tutto può succedere tutto può succedere dai dai come on casco di pisa sembrano equivalerci dobbiamo pensare a giocare bene dobbiamo pensare a giocare bene senza si deve vincere a tutti i cosi dobbiamo ritrovarci un attimo la squadra in ultimi tempi sono stati alternanti qualità di tecnico come giudico queste prestazioni miglioreremo presto spero fiducia nei miei giocatori risultati non mi preoccupano ovviamente ci sono altre rispettive quali dobbiamo migliorare ma ci arriveremo risultati un po' mi preoccupano ma vediamo grazie chiediamo qui con le domande grazie a tutti i partecipanti Ascoli-Pisa un incontro che non vale solo tre punti ma è un periodo un po' difficile ripisa due sconfitte consecutive non erano mai successi in questa stagione scendiamo in campo con Gemello Barba, Caracciolo Esteves e Beruato Marin, Noji Tramoni, Morutan Tramoni a centrocampo Torregrossa davanti De Angelis un pochino stanco parte dalla panchina Leali invece tra i pali dell'Ascoli Simic, 40 Donati e Falasco in difesa Collo-Colo Naoré e Caligara a centrocampo Giordano Mendes e Falzerano in attacco tutto pronto per Ascoli-Pisa scendiamo in campo Falzerano Mendes ci prova dal limite c'è Gemello Tramoni fa che andare poi scarica su Torregrossa palla sul destro Leali in calcio d'angolo Tramoni al centro c'è De Angelis Tramoni l'ha visto Tramoni va da solo al centro De Angelis Leali c'è para al centro Dionisi Gemello salva qui il risultato gran parata bravo Touré a intercettare un attimo pallone Touré adesso contro Leali Touré 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 Leali non c'è più tempo finisce qui Ascoli 0 Pisa 0 Pisa che torna a fare punti porta a casa 1 ma con un po' di rammarico perché questo oggi a tante le occasioni c'è qualcosa che nel modulo forse non sta più girando molto bene vedremo se col Perugia questo potrà tornare a girare perché il Pisa ha bisogno di punti ha bisogno di vittorie reso conto disponibile dall'osservatore vediamo se c'è qualcosa in realtà nulla nulla di che c'è il fratello di De Angelis ma noi raccomandati non ne vogliamo Boloca che ci chiede di giocare vedremo vedremo formazione da sistemare in realtà perché qualcosina non sta funzionando siamo adesso al settimo posto ed è tosta ed è tosta nel senso che adesso siamo a 2 punti dal Brescia quindi 2 punti dalla quinta in classifica siamo però a 6 punti dal Benevento Benevento e Giana stanno stanno volando io spero che portando a casa tutti gli obiettivi a meno che appunto lasciando solo quello della promozione diretta potremmo riuscire a restare sulla panchina del Pisa o temo temo l'esonero quest'anno un pochino più facile essere esonerati rispetto agli scorsi quindi facciamo attenzione preparo la formazione contro il Perugia perché questa ragazzi è da portare a casa scendono in campo per il Pisa De Angelis punta centrale centrocampo abbiamo Sibilli Volpato e Bosele con Volocca e Ionita fare da muro prima della difesa con Rus Caracciolo Calabresi Ureskin in una faccia come terzini sinistro destro gemello tra i pali per il Perugia invece un 5-3-2 dopo questa perioda valuteremmo eventualmente se passare anche noi ad una difesa a 3 più che altro perché stiamo facendo fatica dobbiamo capire effettivamente come provare a muoverci potremmo provare a tornare a un 3-4-1-2 quello che abbiamo avuto con il Parma con il Genoa poi anche per un periodo con il Venezia riprendiamo a scendere in campo Pisa contro Perugia Chiorri di serio davanti Luperini Vulic e Iannoni a centrocampo Curado Rosi Sgarbi Lisi e Casasola sulla destra Gori tra i pali Pisa contro Perugia scendiamo in campo Luperini attenzione in mezzo al cross per di serio c'è gemello Voloka Volpato ancora Voloka non ha spazio Luz Volpato lo spazio ce l'ha prova il mancino Gori in calcio d'angolo De Angelis ha visto Ebosele prova a servire Ebosele tra l'altro ha provato in serisi dall'altra parte Juleskin da fuori ci pensa Gori di serio parla dal centro per Melchiorri che tiro che gol Perugia in vantaggio oggi il Pisa fa molta fatica Voloka Volpato in qualche modo per De Angelis è passato in qualche modo il pallone l'ha visto De Angelis 1-1 Pisa che torna in gara Pisa che ha bisogno di questi punti vediamo qui intanto Voloka Volpato in qualche modo che passaggio ha fatto Volpato Sibili avanti per De Angelis visto De Angelis buono per Gori il pallone ma Ebosele Ebosele può andare col destro Ebosele 2-1 un gol incredibile di Ebosele che poi va addosso alla bandierina abbracciato da Volpato da Voloka da Tramoni un gol pazzesco un gol che serviva davvero come l'acqua nel deserto Iannoni subito reazione del Perugia poi Jureskin può cambiare gioco ma tiene il pallone tra le gambe finisce qui Pisa 2 Perugia 1 torna la vittoria della squadra norazzurra dopo tre partite difficili 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 la sconfitta con il Bari la sconfitta con il Genoa il pareggio per 1-1 o meglio per 0-0 con Lascoli un punto a testa però quello con Lascoli è stato comunque un ottimo pareggio dato che la squadra bianconina vola e viaggia in classifica Pisa che ritrova i tre punti grazie a un gol incredibile di Ebosele e al pareggio di De Angelis nel primo tempo bene magnifica vittoria mistero ero certo che avrei potuto aiutare la squadra a vincere ottimo lavoro blocco comunque ha giocato bene questa partita uno che non sta più giocando tanto bene è Sibilli le ultime partite così 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 nelle ultime partite prossimo match del nostro Pisa contro Benevento partita fondamentalissima fondamentalissima tra l'altro adesso siamo a meno 4 dal Parma attualmente secondo in classifica meno 4 anche dall'Ascoli che è terzo ma con 13 partiti quindi potremmo recuperare 3 punti potenzialmente sull'Ascoli il Benevento però a 23 e questa partita ragazzi è fondamentale quanto meno porterà a casa un pareggio perché dovessimo perdere sarebbe veramente tosta sarebbe veramente tosta poter recuperare ovviamente siamo all'inizio del campionato ci sono 38 partite noi siamo a 12 quindi cerchiamo di andare con calma senza pensare già subito al peggio prossimo episodio che vedremo con Benevento Frosinone Cosenza e parleremo 4 partite molto importanti 4 partite che ci diranno già un po' come arriveremo un po' al mercato di gennaio ci sarà poi il mese di di dicembre ancora Rus e Noji sempre in nazionale tra Moni che vuole giocare tra l'altro si chiama Matteo seguiamolo seguiamo i suoi consigli facciamolo giocare però nel prossimo episodio vi ricordo di lasciare qui sotto un mi piace al video se vi è piaciuto commentate fatemi sapere cosa ne pensate di questo episodio se vi trovate con le slide che vi ho fatto vedere ho giusto abbassato un pelino la precisione passaggi cioè nel senso sì l'errore passaggi pardon che quindi favorisce un attimino di più il gioco perché se no è veramente molto 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 difficile fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto mi raccomando vi lascio il link del mio profilo per seguimi in live instagram telegram per essere ragionati con la community ragazzi un bacione un salutone e alla prossima sempre qui sul mio canale ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti